...ispirazioni che vengono da un animo posseduto da una sua qualche capacità particolare nel cogliere il senso più intimo e più fondo delle cose, come se quella che ci circonda appartenesse ad un mondo a noi non recepibile, in quanto parallelo o nascosto agli occhi di una normale passione della strada. E questa è che così, Alberto, è una terminazione, è che pure la poesia. Adesso devo dire una cosa, io stasera ho avuto con i miei ospiti, Alberto Cipoglio, Pintone, Renato, che si occupa di cinema, e ho invitato anche Alessandro Marino, che è venuto adesso, che potevano qui, che avevano un piacere di avere, mi ricordo di mio padre, è morto all'inizio dell'estate del 74. Più non allieta il profumo del tiglio, il cortile in cui è sorto si devi, alta la fronte, i rugosi pensieri. Gario correva, tra bionde trecce, il mio sogno di bimba. Fugge il verde dagli occhi, sgredola all'oleandro ovattato sedutore, nel riposto cortile, dove ora contendo, all'austero agrifoglio, dell'estate mancata, il legnoso sospira. Sono quelle che la conoscevo, Alberto. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti.